L'entusiasmante arrivo in parata ha caratterizzato la Gran Fondo Femminile nel segno di Costanza Martinelli e della campionessa italiana Manuela Lezzerini, terzo gradino del podio per Marcella Lombino. La Medio Fondo di 90 km ha visto un terzetto evadere da un folto trappello di battistrada sull'ascesa finale. Fabrizio Giardini, Stefano Pellegrini e Stefano Colaget del Team Bike Emotion si sono dati battaglie a lungo.